ciao ragazzi sono simone zazza oggi volevo parlare di tatuaggi io ne ho più o meno una decina questo qua è dedicato ai miei genitori c'è scritto so is my vida siete la mia vita e voi invece quanti ne avete inviateci le vostre foto a hashtag viva azzurro ciao